il sospiro la vede vedela tal dotata di tale soprannaturale bellezza che quando mi riferisce ciò che ha visto una volta tornato sulla terra io non arrivo a comprenderlo tanto parla in modo difficile sottile al cuore addolorato che gli chiede notizie il sospiro cioè il pensiero di beatrice scaturisce come si legge al verso 2 dal cuore è per il dolore della morte di beatrice che il cuore infonde al sospiro un'intelligenza nova e ora lo interroga per sapere di lei in paradiso so comunque che il sospiro parla di quella nobile gentile donna perché però che spesso lo sento fare il nome di beatrice cosicché almeno questo io lo capisco bene donne mie care ciao 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 ciao